Un incendio scoppiato la scorsa notte a ospedaletti di probabile origine dolosa ha distrutto tre auto, un camper e un furgone che erano parcheggiati in strada a Valle Grande nei pressi delle case popolari. Il vasto rogo è stato domato dopo diverse ore dai vigili del fuoco di Sanremo e le fiamme molto alte hanno anche raggiunto un paro della luce causando un blackout nella zona. Stando ai primi accertamenti l'incendio sarebbe partito da un'auto di proprietà di un ristoratore e i carabinieri di Bordighera che stanno svolgendo le indagini non escludono appunto l'ipotesi dolosa. Ora si stanno analizzando i filmati di telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze. Questa mattina sul luogo dell'incendio si è recato anche il sindaco di ospedaletti Daniele Cimiotti per compiere un sopraluogo e rendersi conto di persona di quanto accaduto.